Siamo in Sala Cordella alla mostra fotografica del fotoclub di Adria delle rassegne teatrali del 2019 e 2020. Siamo in piacevole compagnia del presidente Michele Stoppa che ci illustrerà il progetto. Che cosa rappresenta questa mostra? Questa mostra rappresenta un progetto che il fotoclub Adria ha iniziato ancora nel 2008. Questa è la tredicesima mostra che il fotoclub Adria organizza presso la Sala Cordella e rappresenta tutti gli spettacoli che si sono succeduti presso il Comunale di Adria. È un'iniziativa portata avanti congiuntamente con l'Amministrazione Comunale. Ogni anno, in questo mese, nel mese di ottobre, viene organizzata con il patrocinio del Comune di Adria con quello della Biblioteca Comunale di Adria questa mostra e insieme alla mostra viene prodotto anche un catalogo fotografico. Le stampe e il catalogo fotografico, da tradizione, ormai dal 2008, vengono consegnati alla Biblioteca Comunale di Adria. Quali sono le difficoltà artistiche o tecniche? Le difficoltà artistiche principalmente sono quello del conoscere in anticipo, se possibile, lo svolgimento dello spettacolo. Questo per essere pronti a catturare le immagini e i momenti salienti del spettacolo. Dal punto di vista tecnico, fotografia è, come dice la parola, deriva fotografare la luce e purtroppo al teatro di luce ce n'è poca. Quindi, soprattutto adesso con l'uso di macchine digitali, questo problema è stato notevolmente risolto, anche se comunque la componente tecnica riveste ancora una sua fondamentale importanza. Ci può dire cortesemente il nome degli autori che hanno partecipato? Sì, gli autori che hanno partecipato a queste due rassegne teatrali sono Alessandro Sturaro, Cosimo Ruggia, Donata Previato, Franco Possato, Germano Benissi, Gianfranco Cordella, Gottardo Corazza, Ildo Mauro Biorcati, Luca Zonari Canè, Maria Burgatto, Marzia Benatelli, Massimo Zago, Sante Crepaldi e Sottoscritto. La mostra fotografica presso la Sala Cordella rappresenta due stagioni teatrali, quella del 2019 con 12 spettacoli, mentre quella del 2019-2020 solamente con 5 spettacoli, perché poi nel mese di marzo, per i noti problemi sanitari che conosciamo tutti, è stata sospesa. Quali sono i progetti futuri del Fotoclub di Adria? I progetti futuri del Fotoclub Adria, ovvero quelli in cui adesso in questo momento ci troviamo, sono sostanzialmente su tre fronti, quello innanzitutto di continuare questa progettualità con il Comune di Adria e quindi continuare a seguire gli spettacoli che si succederanno presso il Teatro Comunale. Poi ci saranno dei momenti, sempre giovedì, noi ci ritroviamo giovedì di incontro in cui facciamo sia lettura dell'immagine, condivisione quindi dell'immagine scattata dai soci, invitiamo, è il nostro programma invitare anche qualche fotografo famoso in maniera tale da poter diffondere la cultura dell'arte fotografica fra i soci, alcune serate tecniche sull'utilizzo di strumenti di sviluppo delle foto e poi anche qualche uscita.